Siamo partiti da un quarto d'ora, stiamo salendo, fa molto freddo. Mamma mia, ti diceva di macchia, dicevo, non prendere i guanti pesanti, meno male. Buongiorno lei, come va? Come va? Assumassi? Sosta, qua si prende il tè. Qui la salita è importante. Adesso dobbiamo scendere di qua e salire di là. Forza, avanti! Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti. Eccoci qua. Questo era mangiato. Edo! Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti. Un problema, non si apre il GnP, e adesso come facciamo? Siamo partiti. Siamo partiti. No, non serve niente. Ma no, con il cacciavite è passato di pronto. Ce lo sto facendo! Vai! Ce lo sto facendo! Era lui che girava le brane, i polsi. Siamo partiti. Non è possibile! Amaro vengo! Vengo anch'io! Vengo a fare un goccio di caffè amaro! Vabbè, qui abbiamo desistito. Non si beve il GnP oggi. Non ho la tazza! Ecco! Bello il caffè così! Caduto! Ecco il caffè! Per terra! Vuoi un correttore? Vuoi un caffè? Ma hai un bicchierino? Se vuoi un correttore! No, non bevo! No, ha risolto! Ha risolto! Come ha fatto? Come? Un bacio dei bastoncini! E lo zucchero che si era... Sì! Lo zucchero che si era incollato! Sì, perché si era incollato l'abbiamo capito! Ma come scollarlo? Va bene, in tre! Ma non so come si chiude il caffè! Ma come si chiude il bicchierino? Ma come si chiude il bicchierino? Al contrario, al contrario! Chiudi, chiudi, chiudi il contrario! Così, 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 così! E non potevi dirlo subito? Ma io sono arrivato adesso! Sono arrivato adesso! Non è neanche mio quello lì! I Bambini! Ah! si scende a